Salve, salve. Abbiamo il direttore generale del Dipartimento Caglia, abbiamo il dottor Signorini che è il capo del Dipartimento Infrastrutture, direzione generale Caglia, il capo di Dipartimento. Abbiamo la dottoressa Nelli che è la vice capa di gabinetto, dovrebbe arrivare il capo di gabinetto che direbbe un'altra visione. Per quanto riguarda voi, non vi conosco, quindi stavamo a fare le presentazioni. Noi, diciamo che inveniamente rappresentiamo la manifestazione del Dipartimento, inveniamente perché c'erano tante città presenti, ma anche in realtà la manifestazione è stata promossa dalla rete Abilare in Agrini, che è una rete nazionale, un metodo nazionale che affronta i tempi di funzione della Caglia, a distratti, alle famiglierate del Dipartimento. Noi lavoriamo come vuoi. Vi prego, bastate. Per cortesia, se non si accomodate. Devono lavorare, per favore.